Si è tenuto presso il comune di Calvi Risorta, piccolo centro della provincia di Caserta, un importante convegno sulle complesse problematiche che vivono oggi i figli di genitori separati. L'amore si muove, genitori per sempre. Era questo in sintesi il titolo che ha visto insieme psichiatri, psicoterapeutici, familiari, mondo della scuola e mediatori familiari. Importante l'apertura di Amelia Izzo su storia, finalità ed obiettivi nei diversi ambiti del gruppo di parola. I lavori organizzati dall'Università del Matese, il comune di Calvi Risorta e la regione Campania sono stati moderati da Laura Palmeri. Il sindaco di Calvi Risorta, Giovanni Lompardi, ci ha spiegato poi da dove nasce l'esigenza di questo convegno nella sua città. Sentiamolo. Innanzitutto, buongiorno. Il convegno a Calvi Risorta nasce prima di tutto da un'esigenza sociale, e poi dalla volontà delle istituzioni locali di voler creare una sorta di sensibilizzazione sul tema. Un tema che a nostro avviso deve essere in qualche modo portato nelle case di tutti. Rappresenta in questo momento probabilmente un problema sociale, la difficoltà proprio dei bambini che purtroppo non hanno la possibilità di esprimere i propri diritti. Noi ci impegniamo come istituzioni tutti i giorni nell'affermazione di questi diritti e abbiamo bisogno delle associazioni e di tutte le istituzioni collaterali affinché questo messaggio di solidarietà nei confronti dei minori che hanno problemi possa essere portato avanti. A margine dei lavori abbiamo sentito sul tema, in chiave tecnica, il dottor Antonio Cantelmo, psicologo clinico, psichiatra, il quale è andato subito al cuore del problema, spiegando quali sono i segnali che i genitori devono cogliere sui disagi dei bambini e cosa si può fare. Sono tanti sintomi che un bambino dà ai genitori separati, però in sintesi i 4-5 sono i più importanti. In prima battuta il bambino comincia a piangere senza un motivo apparente. Il primo sintomo è importante, l'altro comincia ad avere delle defaianze scolastiche, senza motivo, comincia ad essere insonne, comincia a lamentare mal di stomaco, nausea, comincia ad essere irascibile e nello stesso tempo molto irritabile. Qualsiasi cosa gli si dice non va bene, ha le sue ragioni. Che cosa bisogna fare in questo caso? Bisogna che entrambi i genitori, pur stessi parati, facciano capire al loro figlio che nonostante l'amore, tra virgolette, tra i genitori sia giunto al termine, quello che rimane del rapporto è comunque sempre l'affetto sinne condizione e l'amore eterno verso di lui. Lui resterà sempre e comunque l'amore di entrambi. Perché, notore Candelmo, io credo che il bambino è molto preoccupato di essere abbandonato. È un po' questo il segno principale o no? Il senso di abbandono la fa da padrone perché in effetti, perché poi si sente abbandonato il bambino, perché innanzitutto viene sbalottolato a destra e a sinistra come un peluche e poi perché, inconsciamente, il bambino si sente quasi colpevole della fine del rapporto genitoriale. Da Calvi Risorte è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it